Dopo le europee si torna a dialogare, per ora è tutto congelato? Anzi, i toni sarà... Beh sì, le europee influiscono, le europee si va ciascuno per conto proprio e Conte sogna un buon risultato, addirittura qualcuno dice che pensa di superare il PD, che è improbabile. Dopo le europee vedremo gli equilibri che si sono formati anche nel centro-destra, perché ricordate la battaglia tra Lega e Forza Italia, in questo momento sono pari e arrivare primo sarà un elemento di rimente, dopo si ricomincerà a discutere... Guarda qui, guarda i tuoi bei sondaggini che hai fatto per il mio amico Formigli, questi sono i tuoi bei, sono tanto geloso di questo che fai, sai? Sono veramente geloso Renato, mi tradisci? La Lega è l'8,4%, e beh, non è un tradimento, io sono... Eh, mi metti le corna, mi metti le corna, giovedì. La Lega è l'8,4% e invece nel cartello successivo si vede che Forza Italia anche quello è lì, lì. Ecco, ma torniamo all'altro prima Renato, perché è interessante quello, lì c'è dentro la battaglia del centro-sinistra. Allora, qui è 10 gennaio, quindi freschissimi, no? Scusami, 10 gennaio, 10 aprile, scusami. Partito Democratico, 19-8, Movimento 5 Stelle, 16-1. Tu dici che addirittura è possibile che il Movimento 5 Stelle in qualche modo... Conte vorrebbe, a me sembra improbabile, ma io non ne ho mai azzeccata una nella vita, quindi sarà un'altra volta, però mi sembra improbabile. Certo che Conte, secondo alcuni, spera, in fondo sono quattro punti. L'elettorato è molto volubile, può essere che in questi giorni, davvero in questi giorni questa motivazione dell'onestà è salita nell'elettorato, noi l'abbiamo intervistato. Può essere che questo dia nuovi voti al Movimento 5 Stelle, vedremo nelle prossime settimane. Anheimer si intende di numeri, ma un'altra persona...